Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Bob Marley, Andrea va a San Patrignano e io vado a Lourdes A San Patrignano infatti Vai a curarti da lui Ok, no a parte scherzi A parte scherzi Volevo dirvi una cosa, una cosa molto molto importante Rimetti un po' di sottofondo No, no, questo sottofondo qua va bene Però ecco così Una cosa che mi viene dal cuore Volevo dirvi, adesso state ritornando a casa Domani ritornete a casa Magari in una giornata di dicembre Magari siete fuorinerica State sfogliando le foto di questa vacanza Oppure state guardando i filmini di questa vacanza Tutto è, vi uscirà un sorriso Tutto questo e grazie ai ragazzi Joe Party Club Questa Un'altra che mi esce veramente dal cuore La devo dire Ragazzi, se vi siete divertiti Fateci pubblicità Se vi siete divertiti Fatevi i cazzi vostri Ok? Perfetto almeno No, siamo tranquilli No, vai a uscire un ebay Vai a uscire un ebay che ci divertiamo No, che schifo Sul triple visor Scrivete sul triple visor ragazzi È un nuovo sito che è uscito adesso Sono tutti che si vedono Tutti in trip Tutti in trip Sul vaso Trip advisor Eh beh, sì, ma sì, fatti Che scherzo Che inglese Beh, scrivete dove volete Basta che scrivete Beh, no, fatti No, speriamo Speriamo Fateci pubblicità Scrivete sul triple visor Che c'è da fare, scusa? Dopo Per chi vuole vedere C'è la partita La partita dell'Inter Inter-Napoli Mi sembra sul 10-11 Tu chatta Tu schiaccia Prima o poi esce Esce il gol del Napoli E sei fertile Devi fermare Ok? Ci stiamo, ci stiamo Cominciamo subito Cominciamo subito Il nostro spettacolo di varietà Vi sentiamo un pochino Mano sinistra Mano destra Signori e signori Ladies and gentlemen Questa sera Vagità Applauso E entusiasmo M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M Grazie a tutti.